Come potete vedere dietro le mie spalle c'è la città di Melfi che ci aspetta il 30 settembre dopo Battiti Live arriveremo noi con Miss e Mister Mediterraneo nel mondo 2017 tappa ufficiale, mi raccomando vi aspettiamo perché noi tra poco entreremo dentro la città di Melfi Ciao a tutti da Claudio Baldini, mi trovo a Melfi nella provincia di Potenza in Piazza Duomo dietro di me c'è la cattedrale dove ci saranno tantissimi eventi firmati K2G come potete vedere c'è già il palco, noi nel frattempo vi incammino perché siamo sempre nel backstage di Miss e Mister Mediterraneo nel mondo 2017 come potete vedere Piazza Duomo qui a Melfi, una bellissima Piazza Duomo, vi aspetto il 30 settembre per Miss e Mister Mediterraneo nel mondo 2017 tappa ufficiale della Basilicata da Leone Egizi, produzioni televisive e Liliana Esposito, agenzia Modelli Italia e tutto e anche dal sottoscritto mi raccomando scrivetevi questa data 30 settembre 2017 a Melfi Piazza Duomo siamo di pronte alla bellissima cattedrale, ciao ciao